Le sue regole le sanno tutti. La cassetta si deve ridare dopo 48 ore. Non si rovina, non si presta nessuno e soprattutto non si duplica. Stai zitto, Lu. Abbiamo un piano, rispettiamo il piano. Il piano fa schifo. Ho sentito dire che una volta un ragazzino... Smettila, Lu. Sembra un cacazotto. Quei soldi ci servivano per la Playstation. Antony ci scoprirà e poi ci ucciderà. L'ho presa, l'ho presa. Come? Fai vedere, vai vedere. Non ci credo, abbiamo la cassetta. Il porno non si duplica. Era una delle regole. Io non mi faccio spaventare la figlia di un'edicolante. E se ci scopre? Non ci scopre. Cazzo! Cazzo, cazzo. Che ne vai che abbiamo da fare? È la mia festa e poi ve ne dovevi andare. Non devi stare con le tue amiche, perché non ve ne stare in salotto? Cazzo, 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 cazzo. È la mia festa. Siamo in tutti i passi e ci guardiamo per i cartoni. Ma non possiamo restare un altro po'. No, no, dobbiamo andarci, non l'hai sentita? Mio fratello bacia con la lingua le mie bambole. Tu sei satana. Apri la. Campania. È un documentario. Oh, cazzo. E che è la principessa Petulla? La cassetta porn, non è un altro registratore. Quale cassetta porn? Dovevano vedere un cartone. Mia sorella doveva vedere un cartone a casa. Ti vuole vedere la principessa Petulla? Io! Non aspetta! Seguitemi veloce! Aspettatemi! Daniel! Daniel, non andate in camera che stanno ancora i amichetti di Raffa. Stanno facendo ancora di urli. Sei disposta! No, 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 ti preoccupo! No, 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 è nãoudino. Grazie! Grazie a tutti